Talk F a noi due! Ebbene sì, oggi ti darò una mano a capire come iscriversi e prepararsi al test di ammissione per la facoltà di farmacia! Ciao, sono Matteo, anche noto come Super Matt, il tuo supereroe scientifico sempre a portata di CLICK, pronto a darti una mano sia in matematica che in fisica. E oggi in particolar modo voglio aiutarti a capire come funziona, qual è la struttura, come iscriversi, come prepararsi al test di ammissione alla facoltà di farmacia e anche a quella di CTF, chimica e tecnologie farmaceutiche, che sono un po' i due must delle facoltà di farmacia per lavorare più a contatto con il pubblico successivamente per lavorare proprio nelle aziende farmaceutiche e quindi proprio a contatto con la costruzione del farmaco. Benissimo, entriamo subito nel dettaglio. La prima cosa da sapere è che fa parte della grande famiglia dei TOLC, test online CISIA. Quindi? Quindi, morale della favola, in realtà ne ho già parlato più ampiamente all'interno di un altro fantastico video e la maggior parte delle informazioni di alcuni link utili lasciati lì in quella descrizione li puoi andare a recuperare, ti faranno assolutamente comodo. La seconda grande informazione però è che fondamentalmente questo è un test sia adottato dalla maggior parte ormai delle università pubbliche italiane Quindi, primo indizio fondamentale, andare a consultare il bando di ammissione della tua università perché non si sa mai se viene accettato oppure no Seconda grande informazione utile non vale ovviamente per le università private Quindi ad esempio se ti vuoi iscrivere alla Cattolica devi fare riferimento al loro sito, andare a vedere come funziona Ci sono modalità, acquisiti differenti, esercitazioni differenti, insomma tutto davvero diverso Quindi quello che c'è all'interno di questo video non fa esattamente al caso tuo Successivamente invece per iscriverti come funziona? Vai sul sito CISIA, crea il tuo bellissimo account, iscriviti Attenzione, devi creare in realtà due account, sia quello per iscriverti effettivamente al test talk F E dall'altra parte quello per la zona delle esercitazioni, per il materiale da scaricare per esercitarsi E già, il buon CISIA in realtà non ci ha aiutato moltissimo nel lavoro perché dobbiamo creare ben due account distinti e separati Successivamente però l'altra grande informazione è che devi anche completare tutte le pratiche burocratiche All'interno del sito della tua università, sì quello dove sei andato a controllare il bando di ammissione Perché? Perché altrimenti se no i due sistemi non si parlano benissimo fra di loro E quindi potremmo avere poi delle difficoltà per farci riconoscere il punteggio e altre situazioni di questo tipo Il vantaggio più grande del talk F qual è? Un sistema completamente computerizzato Quindi che tu lo faccia nella modalità a casa o nella modalità all'università, al popolo non interessa Lo puoi ripetere più di una volta, attenzione però, solo una volta all'interno di un singolo mese solare Che vuol dire? Me lo puoi tentare a giugno, a luglio, ad agosto, a settembre Cioè a seconda ovviamente sempre delle date che mette a disposizione l'università all'interno della quale lo stai andando a fare Altro grande vantaggio, se lo facciamo con la modalità talk all'università, lo possiamo anche fare in un'università Dove non è quella in cui intendiamo poi iscriverci, magari perché siamo in vacanza lì Magari perché è più vicino alla zona dove siamo adesso e via dicendo Questo ovviamente è un altro grande vantaggio Attenzione, puoi anche preparare più talk contemporaneamente Ad esempio qui ho parlato del talk I, del talk B e di altre cose di questo tipo qui Quindi di conseguenza facci un salto e vai a vedere se sei incuriosito o se vuoi provare anche altri test Nell'arco del mese solare puoi provare ad esempio il talk I, il talk B, il talk E, il talk F Questi tutti e quattro ad esempio a giugno Ognuno lo puoi fare solo una volta all'interno di quel mese solare Spero di essere stato chiaro, ovviamente se c'è qualche dubbio lascia un commentino qua sotto Arrivo da te dalla velocità della luce o quasi, insomma davvero supereroi E poi ovviamente se no mi contatti sulle mie pagine social, Instagram, Facebook Dove mi vuoi sono sempre a portata di click pronto a darti una mano Successivamente l'altro grande consiglio è che se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale Fai suonare la campanellina perché? Perché ci sono un mare di simulazioni, alcune già arrivate che puoi trovare ad esempio qui Altre che stanno arrivando Sono esplicitamente per il talk I, ma attenzione come vedremo tra poco Non fa assolutamente molta differenza Perché le materie affrontate all'interno del talk F Sono molto simili a quelle affrontate all'interno del talk I o di tanti altri talk Quindi di conseguenza rimani incollato agli schermi Ed esercitati con me che vedrai che sarà tutto molto più semplice Che cosa dire? Svolte tutte le pratiche burocratiche che non ci rimane appunto che capire cosa Come affrontare la prova, come prepararsi e quali sono le materie che dobbiamo studiare Come vedi è comparsa qui alle mie spalle l'immancabile lavagna di supermat Dove ho segnato quelle che sono le materie fondamentali che dobbiamo andare ad affrontare per il talk F La prima cosa che salta all'occhio è che è un test veramente difficile Io ti assicuro, ho fatto revisioni di tantissimi altri talk come ti dicevo in precedenza E secondo me questo è uno tra i più difficili Per materie trattate, per quante ne sono trattate E anche per il numero di quesiti, tutti abbastanza sostanziosi per ogni singola materia Ovviamente le materie più importanti sono la biologia e la chimica Non poteva essere altrimenti, benvenuto nel magico mondo della farmacia mi verrebbe da dire E 15 quesiti ognuno Attenzione, ogni quesito è composto da 5 opzioni di risposta Quindi neanche 4 ma ben 5 La modalità del talk è questa Una sola è sempre quella corretta E boom, attenzione, c'è la penalizzazione Che vuol dire? Vuol dire che per ogni risposta sbagliata, meno 0,25 punti Un punto per ogni risposta giusta e un bello 0 per ogni risposta non data Quindi se c'è la penalizzazione non devi buttare le risposte a caso Questo mi sembra il consiglio massimo che io ti possa dare in questo momento Successivamente noterai che oltre al numero dei quesiti qui accanto c'è scritto il tempo Perché in precedenza, se vai a rivedere, ti ho detto che il sistema è computerizzato Essendo computerizzato è tutto automatico Quindi hai solo 20 minuti per fare questi 15 quesiti Finiti questi 20 minuti, se non sei arrivato alla fine dei 15 quesiti Ciao ciao Passa direttamente alla sezione di chimica Quindi che vuol dire? Vuol dire che ti devi dare una mossa Se finisci invece prima dei 20 minuti Puoi passare da solo ai quesiti successivi O altrimenti scegliere di riguardare, ricontrollare e quindi fare un po' di attenzione Biologia e chimica Poi ritroviamo le mie adorate matematica e fisica 7 quesiti ognuno che non sono pochissimi Un po' più di tempo per ogni domanda per rispondere a questi quesiti qui 12 minuti, 7 quesiti Va bene, dopodiché per completare logica Quindi test psicoattitudinali Quindi morale della favola, situazioni grafiche, situazioni con affermazioni logiche, deduzioni logiche deduttive Cose variegate di questo tipo qui Il problema è che anche in matematica e fisica i programmi non sono semplicissimi Sono molto simili a quelli del talk e i Proprio per questo ti dicevo Potevi andare a vedere quelle simulazioni Che ti ho lasciato in precedenza Clicca sulla i e ritrovi tutto Morale della favola poi c'è l'inglese Perché c'è questa bellissima linea? Perché il punteggio fondamentale è dato solamente dalle prime 5 materie Quindi con quel punteggio che ti ho detto in precedenza La prova di lingua inglese 30 quesiti in 15 minuti Sì, un po' pochino il tempo Ma effettivamente dovrebbero essere domande abbastanza semplici di grammatica Non c'è la penalizzazione E serve solamente per valutare il tuo livello della lingua inglese Ne ho parlato qui dove ho parlato del talk e Del talk e scusami un po' più dettagliatamente Ho presentato la lista dei punteggi In base a quello tecnicamente sarai assegnato ad un corso di lingua inglese di un certo livello Piuttosto che un altro O addirittura se sarai un super big genius dell'inglese Potrai accedere direttamente all'esame Senza seguire il corso Fantastico direi Quindi per superare il test talk F morale della favola Ti devi concentrare su biologia e chimica Io punterei su una delle due tra matematica e fisica Quella su cui ti trovi meglio E poi sicuramente un po' di logica che non fa mai male Io spero che sia tutto chiaro Per sicurezza ti lascio qui a fianco Quello che è tutta la simulazione dei talk Qui sotto tante altre informazioni utili Per ciò che riguarda sempre il talk in linea generale Iscriviti al canale e ti aspetto alle simulazioni con me Ciao campione! Ciao! 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 Ciao!